Buongiorno a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, come ogni mattina ci ritroviamo qui per darci oltre il buongiorno anche le prime pagine e gli articoli all'interno dei giornali in edizione locale, il resto è Carlino, Messaggero e Corriere Adriatico come sempre, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali, ma prima di fare tutto ciò, le previsioni del tempo e anche l'almanacco del giorno che oggi è mercoledì 16 marzo, il santo è San Giovanni de Brebefi, il sole è sorto alle 16.17 e tramonterà alle 18.16 vediamo le previsioni del tempo con l'ausilio degli schemi e dei sistemi matematici della protezione civile delle marche il cielo per oggi è nuvoloso, è molto nuvoloso con come vedete simbologia di pioggia, precipitazioni sparse nelle parti centrali della giornata in modo particolare proprio lungo la fascia costiera, quindi interessata anche la nostra città il limite delle nevicate sale a 1200 metri, quindi insomma è soltanto sui rilievi temperature in lieve aumento nei minimi, vediamo domani giovedì, scompare la pioggia se non appunto sul crinale appenninico e nella zona bassa della regione, però il tempo è come vedete nuvoloso, molto nuvoloso, quindi doppia simbologia, cielo, nuvole e sole un po' di sole pieno lo inizieremo a vedere appunto come vedete dalla cartina soltanto nella giornata di venerdì con cielo sereno, nessuna precipitazione e quindi i giornali ora dopo previsioni del tempo e aver espletato la funzione dell'almanaco vediamo cosa ci propongono questa mattina i giornali c'è un po' di sanità trasversale con tante argomentazioni, però si parla di sanità partiamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico dove il sindaco invia un messaggio molto chiaro a Ceriscioli e dice se ri appunto avverte non si può sbagliare il sindaco chiede la revoca della delibera che conferma il sito a Fosso 6 ore perché dice l'ospedale unico vale 100 anni, quindi insomma non si possono fare errori e quindi invia questo appello a Ceriscioli e dice mi fa insomma faccio conto dell'intelligenza politica di Ceriscioli con l'allusione alle ricadute politiche e sociali di una struttura così importante sul territorio la foto riportata nel Corriere Adriatico riguarda quella del consiglio monotematico sulla sanità dove appunto era presente Luca Ceriscioli e poi in basso si parla di ambito sociale, di welfare e quindi un milione di debito fuori bilancio per l'ambito sociale deliberata questa somma e anche altre per chiudere il capitolo delle pendenze che riguardavano il 2013, adesso punto e a capo, si riparte con nuovo slancio e con una struttura tutta nuova a Barnesi l'assessore orgoglioso per il risanamento ribadito che l'ambiente è sano l'ambiente sano quello che riguarda appunto il sociale del comune di Fano e di tutto l'ambito sociale 6 allora Fano e Valcesano, le pagine dell'interno, vi dicevo, tanti motivi, tanti spunti sulla sanità uno di questi è la protesta che è avvenuta a Pergola Antonio Baldelli sulla botta e risposta su Marini che dice, Alessandro Marini, direttore generale dell'Asur che aveva dichiarato che tutto era ok, tutto era a posto ma sulla botta e Marini dice cose inesatti Baldelli contesta il direttore generale dell'Asur a Pergola la regione assegna un MSA dunque il medico deve essere presente quindi botta e risposta lui dice appunto l'assenza del dottore è palesemente contraria al quadro normativo vigente forse il direttore generale non lo sa ma insomma, quantomeno dovrebbe saperlo continuiamo nelle pagine del Corriere Adriatico andiamo a Senigallia vi faccio vedere che qui, insomma, la pagina è tutta incentrata sulle attività che sono in previsione della Pasqua spiaggia pulizie a ritmo serrato intanto approvata la variante che mantiene le strutture anche d'inverno quindi i bagnini potranno rimanere aperti durante l'inverno ma insomma, come tutte le medaglie c'è un rovescio arriva una doccia fredda per i bagnini che dovranno pagare la seconda insegna e quella dei bar interni e poi appunto, vi dicevo, ricco programma balli, teatro, eventi sportivi per accogliere i turisti per Pasqua due settimane intense per appunto il territorio senigallese e poi in testa di pagina, vi faccio vedere questa è una cosa decisamente meno godereccia però importante, l'alluvione i danni dell'alluvione sentiti in questi giorni anche vigili del fuoco carabinieri e uomini della protezione civile all'alluvione sfilano i testimoni in procura l'alluvione che ha sicuramente segnato molto quel territorio rimaniamo nel Corriere Adriatico però andiamo a Pesaro in grande evidenza una cosa che riguarda anche il comune di Fano ma non solo si parla di fondi europei da Pesaro l'esperienza pilota l'assessore delle noci dice siamo i primi in Italia a creare una complessa struttura di sviluppo per tutto il territorio si parla di Iti la struttura che metterà in contatto la governance di Bruxelles e la regione Marche e i territori appunto tra cui anche Fano con proposte per captare questi fondi europei l'unione fa la forza si dice in questo caso Fano concorre per la fabbrica del Carnevale Pesaro con Palazzo Ricci quindi il Palazzo della Musica insomma bisogna fare blocco unico sono più di 50 i comuni della provincia che si presentano uniti con un progetto provinciale strategie condivise con le parti sociali per moltiplicare le opportunità locali sui fondi dell'Unione Europea e sicuramente in questo modo ci sarà modo appunto di sfruttare di più queste opportunità che l'Europa ci mette a disposizione e anche i piccoli comuni che non avrebbero le capacità per arrivare fin lassù sono insomma nel comparto che invece potrà usufruire di questi fondi andiamo a Urbino per la morte di quell'uomo nel fiume Apsa è un malore oggi l'autopsia sulla Sama di Astolfi per gli inquirenti non c'è alcun mistero è tutto chiaro andiamo nelle pagine del resto del Carlino partiamo dalla pagina principale quella che apre l'inserto l'inserto locale diversi spunti fotonotizia pagina centrale grande risalto a questa a questa a questa diatriba quasi familiare rottura definitiva tra Valentino Rossi e Linda confermato il litigio ora Rossi pensa soltanto alla vendetta sportiva sugli spagnoli sappiamo tutti quanti come è andato a finire il campionato dell'anno scorso vecchia bancamarche insolvenze aperto fascicolo per bancarotta e poi a pagina troviamo un articolo che riguarda l'evasione fiscale e l'operazione della guardia di finanza andiamo all'interno delle pagine ecco vi faccio vedere il titolo in testa sotto sotto la pagina sul caso bancamarche la procura punta alla bancarotta fraudolenta ottenuta la dichiarazione di insolvenza del vecchio istituto aperto un nuovo fascicolo e un quartiere di pesaro importante nutrito insomma un quartiere importante siamo a Villa San Martino che protesta un attimino e fa presente alcune cose al sindaco distributore centro raccorte di fiuto e deposito inerti queste sono le spine nel fianco insomma la lista della spesa presentata dagli abitanti di Villa San Martino al sindaco il quartiere ribelle insomma assemblea con tanti mugugni Ricci ammette anche io non sarei contento di avere un distributore di gas sotto casa ma se è in regola il comune non può intervenire questa è la sua considerazione andiamo nella pagina di Fano del resto del Carlino del quotidiano bolognese si parla di un caso che è avvenuto nella giornata di ieri c'è un signore che si sente male siamo a Marotta sulla nazionale chiamato il 118 ma il primo potes vicino non era quello di Marotta che non è un semplice servizio come quello di Pergola o Lucrezia dove sono presenti anche 24 ambulanze non medicalizzate a bordo di questa ambulanza ci deve essere sempre un medico esperto per gestire l'emergenza urgenza appunto un medico abilitato a fare servizio nel 118 non era disponibile perché 7 medici assenti per temporanei motivi di saluti e questo dice Alessandro Bernardi il responsabile della centrale operativa 118 di Pesaro e Urbino insomma un'evenienza che si può verificare però è arrivata l'ambulanza il 118 da Fano grazie a Dio tutto è andato bene l'uomo è stato stabilizzato e ricoverato in emodinamica a Pesaro e quindi insomma tutto sotto controllo il dirigente dice malgrado la situazione contingente la risposta organizzativa è stata puntuale tutto bene quello che finisce bene si parla anche di due società controllate dal comune di Fano nell'inserto fanese appunto del resto del Carlino Aset Spa e Aset Holding sono appunto società controllate dal comune di Fano dopo i medici il Carlino pubblica gli stipendi di Aset Spa e Aset Holding ecco gli stipendi che fanno invidia ai dirigenti comunali la Capodagli dice hanno responsabilità e possono essere licenziati più o meno come tutti i lavoratori l'azienda nel 2013 ad oggi ha sempre prodotto però utili importanti ancora rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino vi dicevo a più riprese a più pagine a più momenti c'è la sanità anche qui si parla di Pergola nelle pagine che riguardano la Val Cesano non si placano appunto le polemiche sull'organizzazione del 118 il medico deve stare in ambulanza Antonio Baldelli replica al direttore generale non sa o non dice la normativa i mezzi di soccorso avanzato implicano il dottore a bordo lo dice la stessa regione andiamo nell'ultimo quotidiano che vi propongo il messaggero si parte appunto dalla pagina centrale vecchia banca marca anche qui in evidenza dichiarata fallita la procura apre un fascicolo e poi in taglio centrale due la fotonotizia due vecchi leoni della musica leggera italiana Baglioni e Morandi due leoni che però ruggiscono ancora saranno presenti all'Adriatica Arena per un tutto esaurito insomma li vedete capitani coraggiosi all'Arena tre ore di concerto annunciato per insomma ripercorrere le tappe di tanti successi di questi due grandi interpreti italiani e poi un bel un bel esempio di come le menti giovani e fresche possono dare spunti e innovazione alle città gli studenti disegnano la città del futuro lavoro cento ragazzi di ingegneria della Politecnica di Ancona presentata la prima fase dell'operazione che cosa faranno ridisegneranno le colline da Viale Trieste a Trebbio Antico passando per il porto appunto ridisegneranno la città del futuro si chiama Progetto Pesaro ed è il tema eseguito quest'anno dai corsi il nostro PRG è solo una base naturalmente di partenza però si sa dalla freschezza e dagli spunti della gioventù vengono le idee migliori l'inserto di Fano la pagina di Fano del messaggero parla di delinquenza quindi l'andrangheta la lunga smano dell'andrangheta sulla zona di Fano in 15 vanno a processo per un maxigiro di prestiti e di usura tutto era partito dal blitz del Gico contro un clan attivo nel Fanesi i giudici ieri hanno rinviato a giudizio gli indagati le accuse sono pesanti e poi ladri di rame a caccia di lampade votive siamo purtroppo nel cimitero di Mondolfo dove sono state fatte delle razzie a caccia appunto di rame e in basso due notizie ambiente esempio fanese va a scuola sul treno verde ieri una delegazione del comune di Fano era presente nel treno verde del lega ambiente per mostrare quanto sia green il comune fanese e tutto quello che è stato fatto in questa direzione e poi prende forma la fabbrica del carnevale sabato prossimo si continua a riparlare appunto l'abbiamo visto prima nelle pagine del Carlino del Corriere Adriatico anche il progetto Iti sabato prossimo nuovo incontro pubblico con il noto architetto Rota per discutere sulle proposte che erano state avanzate bene termina qui occhio ai giornali per questa mattina naturalmente ci riproporremo domani mattina puntuali alle 7.30 con le pagine dei giornali non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e ricordarvi che questa sera c'è occhio alla notizia alle 20.30 buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie a tutti